Ed eccoci qui al terzo blocco di Amaranto World insieme a Paola Ferrara. Voi direte chi è Paola Ferrara? Io sono una tifosa dell'Arezzo. Ecco, essenzialmente è qui perché è una tifosa dell'Arezzo, però non è soltanto una tifosa dell'Arezzo. Sono tante cose, quale vuoi sapere? Per esempio tu sei anche una tifosa di Sant'Andrea. Assolutamente sì, una quartierista, tifosa non mi piace nel quartiere. Quartierista di Sant'Andrea che ha quasi sempre qualcosa di bianco-verde indosso. Vediamo che non manca mai qualcosa. Lei va dalle scarpe fino alla passata e cerca sempre qualcosa di bianco-verde da tenere addosso. Ma nella fattispecie siamo qui per parlare dell'Arezzo e quindi il bianco-verde lo mettiamo da una parte. La birra è anche una delle sue passioni. Assolutamente sì, voglio dire. Ma cosa fai nella vita per poterti pagare la birra? Nella vita insegno. E che cosa? Insegno storia moderna, storia contemporanea, storia dei trattati politica internazionale, tutto quello che è l'ambito storia moderna. Capite, abbiamo a che fare con una persona colta, una tifosa colta. Direi di sì. Direi di sì, ridillo perché il microfono ce l'avevo io. Direi di sì. Ecco, va bene. Allora, veniamo all'Arezzo. A noi piace sapere come vivono i tifosi in questo momento dell'Arezzo. Si sa, l'Arezzo è fallita e ripartita. E c'è una nuova società, c'è una nuova organizzazione, dei nuovi dirigenti e soprattutto una nuova rosa, una nuova squadra con un allenatore nuovo e tutto quanto. Per ora siamo fiduciosi, anche perché non avrebbe senso secondo me non essere fiduciosi in un organico che sta facendo buone cose. Fra l'altro vorrei ricordare che noi veniamo da una situazione come quella della scorsa stagione. Quando noi lunedì giocheremo col Pontedera, ricordiamoci che i giocatori con le proprie auto si spostarono allo stadio. Pensare che ora si gioca... Quando giocammo a Pontedera la partita di ritorno dello scorso campionato, i giocatori andarono a Pontedera con mezzi propri, eravamo alla fine del giro. Addirittura i giocatori andarono a salutare i tifosi sotto la curva perché pensavano che potesse essere... L'ultima volta che giocavano con quella maglia. Cose tristi ma superate. Ringraziando Dio sì, infatti siamo fiduciosi per la partita che verrà, di viverla finalmente con un altro spirito e sempre comunque con venti dei mezzi che la squadra sta mettendo in campo. Perché ricordiamoci quello che è successo in nove, siamo riusciti a spugnare il Franchi a Siena. Spugnare mi è sempre esagerato, abbiamo pareggiato. Ho capito, però era una situazione che io da tifosa datata conosco e... Sembrava di aver vinto. Sì, assolutamente sì, sì. E' una sensazione che abbiamo provato in parecchi. Noi abbiamo anche mandato in onda una piccola clip col Presidente che saltava e salutava la curva e salutava i ragazzi in campo. E' stato bello anche vedere il Presidente così felice di quello che era successo perché è importante anche avere un Presidente che trasmette ai tifosi questo spirito di unità, di crederci perché alla fine bisogna crederci delle cose. Comunque, che impressione ti ha fatto la squadra? La squadra a me piace perché ci crede, perché si inizia a vedere un fraseggio che negli anni scorsi non si vedeva. Si vede, certo, non si vede una punta come quella che tutti sogniamo perché per carità si è sempre detto non importa, non importa, però alla fine... Vabbè, si cerca di sopperire con il gioco. Con il gioco stiamo facendo delle belle cose, nel senso che si vedono... Poi è ovvio, se te mi fai un assist perfetto e la palla mi va via di due millimetri dal palo, c'è poco da dire, bisogna anche considerare questo. Evidente. Io ci credo. Fiducia nel futuro? Sì, sì, fiducia tanta. E poi mi sembra che ancora sia in fie di questa squadra, che possa diventare qualcosa di più forte di quello che si sta ipotizzando. Ok, professoressa, comincia a parlarci di un argomento di storia. Ma quanto mi paga? Aia. Chiudiamola qui, sarà meglio. Grazie Paola. Prego, grazie a voi. Al bar di piazza io capito spesso di mattina per una colazione. Cosa prendo io? Una spuma, un panino col tonno... Dipende, dipende. Una pasta. Una pasta, dipende. Ma il motivo per cui ci sono ora è il fatto che il titolare del bar è un... Tifoso sostenitore dell'Arezzo. È evidente. È evidente anche dal fatto che espone anche la bandiera dell'Arezzo nel locale, che insomma è indicativo. Abbiamo qui stata nel momento in cui c'è stato bisogno l'anno scorso, abbiamo dato una mano anche con il discorso delle tesserine, quando era il momento un po' critico diciamo. Quando c'è stata la collezza, quando tutt'Arezzo si è data da fare. Sì, è stata una bella risposta secondo me. Grazie a voi per esservi dati da fare per conto dell'Arezzo, ve lo dico. Ora invece noi ad Arezzo Channel incontriamo tutti quelli che hanno a che vedere con l'Arezzo in un modo o in un altro. Vecchie glorie, gente che ci lavora, ma anche tifosi. E quindi nel caso specifico il tifoso nero è in realtà il cuore amaranto. Sì, ma il nero si vede meno il grasso, capito? Sì, ma ora si è dimagrito. Vabbè, lasciamo perdere. Ora queste cose ai nostri telespettatori non interessano. Però insomma è un po' dimagrito. Anche io, anche se non si vede. Ma dimmi qualcosa di questa Arezzo, l'hai seguito? Allora, per discorsi lavorativi purtroppo non sono stati. sono stato spesso allo stadio e questo mi dispiace. Però lo seguo sempre e poi grazie anche alla clientela che ho, la Paola in primis e quant'altro, siamo sempre a parlare dell'Arezzo. Sono anch'io molto fiducioso del futuro perché secondo me il processo giusto per la società del genere è quello di costruire un mattuccino alla volta e mi sembra che il progetto sia questo. Certamente, è anche un bel settore giovanile perché abbiamo sette squadre di settore giovanile organizzate bene con un responsabile che è esperto, che era il responsabile a Lecce, è stato responsabile a Trapani in Serie B. Certo, i giovani e il settore giovanile sono fondamentali per una società che magari non ha un presidente che può spendere e espandere e quindi deve costruire qualcosa dal basso come hanno fatto tante altre realtà intorno a noi. Quindi Giorgio non puoi spendere e espandere, è chiaro, lo sappiamo tutti. Ma bisogna sapere spendere, a volte bisogna sapere spendere, non serve solo spendere e espandere. Ottima questa osservazione, infatti l'Arezzo ha fatto una campagna acquisti che sostanzialmente è il pareggio. Sì. Perché? Molti giovani. Perché ha voluto preparare il terreno per costruire una squadra che abbia un programma a media gittata. Certo, sì, sì. Io da lifoso condivido le scelte di questa società. E quindi sopporteremo insieme anche qualche debacle da giovani. Ma senza alcun dubbio, è normale che in un percorso ci sono le cadute, ma l'importante è sapersi rialzare e sono convinto che una società seria così riuscirà a farlo. Per il momento abbiamo più due in media inglese, otto punti in classifica, siamo messi bene, con tre partite esterne e una interna. Senza alcun dubbio, la squadra ha dimostrato forse più delle più cose aspettative, penso. Sarai allo stadio a vedere Arezzo-Pontedera lunedì sera. Lunedì sì, perché lunedì in qualche modo chiudo prima e vado a vedere la partita. Promesso. Tanti avranno difficoltà, ma qualcuno in più ci sarà. Sì. Saluta i nostri telespettatori. Ciao ragazzi, forza Arezzo. Ecco, forza Arezzo ci vuole sempre, forza Arezzo. Buonanotte a tutti, ci vediamo lunedì. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte.